Da quando si è dimesso nel 2016, il giorno dopo il referendum su Brexit, non si è fatto più sentire. Lui che il referendum lo indisse ne uscì sconfitto, gettando, forse suo malgrado, la Gran Bretagna nella più grande crisi politica mai conosciuta. Parliamo dell'ex primo ministro britannico David Cameron, che ora torna con un libro di memorie. Nel testo Cameron fa mea colpa sul referendum, per cui chiede scusa, e spara a zero su Boris Johnson. È un bugiardo, uno che non credeva a Brexit, ma che ha cambiato bandiera per opportunismo, per fare carriera, scrive l'ex inquilino di Downing Street. Cameron parla di una campagna, poi quella del Leeds, piena di menzogne sull'immigrazione, tutta emotiva, insomma una presa in giro. For the Record è il titolo del libro che uscirà giovedì e che fa discutere la Gran Bretagna, mentre il primo ministro, Boris Johnson, si prepara a incontrare Juncker questo lunedì. Alle soglie di un meeting cruciale, Johnson paragona la Gran Bretagna all'incredibile Hulk e dice che enormi passi avanti sono stati fatti verso l'uscita con un accordo. Parole che al momento non trovano riscontro sull'altra sponda della manica, dove il mediatore per l'Unione Barnier dice di non essere affatto ottimista.